Radio Firenze Viola Tweet, Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso Viola Ancora una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Simon Surkowski è pronto ad arrivare a Firenze Da poco sulla pagina Facebook del Polacco una foto del nuovo giocatore Viola che potrebbe raggiungere per qualche giorno il compagno a Moena Italia sto arrivando, si legge nello scatto l'ex Viola Michele Pazienza commenta la situazione riguardante il mercato Viola a Montella servono giocatori tecnici e dinamici Veretù è un giocatore duttile e può servire al Napoli oggi pomeriggio a Moena la Fiorentina ha svolto la consueta seduta di allenamento presenti tutti i convocati per il ritiro eccetto Giordano Veretù ormai ai margini della squadra nel finale dopo il lavoro con la palla, allunghi e scatti una partitella di fine sessione sul nostro sito tutte le foto e le ultime news in diretta dalle Dolomiti con i nostri inviati Beatrice Canzedda e Lorenzo Somigli per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi Viola Tweet Viola Tweet a cura di Fiorentina1.com la voce del tifoso Viola